Pamela Camassa è diventata la leader della settima puntata dell'Isola dei Famosi dopo aver battuto Andrea Locicero. Una vittoria però che non è stata festeggiata dai suoi compagni d'avventura e che ha fatto scendere in campo via social il fidanzato Filippo Bisciglia. Attraverso le sue storie Instagram Filippo ha mostrato tutto il suo sostegno nei confronti della compagna e ha lanciato una bella frecciatina nei confronti degli altri naufraghi. Brava Ninni, ha scritto nelle stories, nessuno ti ha fatto i complimenti, te li faccio io dal divano e tutte le persone da casa. Grazie a tutti.